Guarda che bellezza Fagli il zoom sugli oggetti, altrimenti si vedono le manche Comunque cercate perché ci dovrebbe essere anche Louis Vuitton Cagli tutti i denti e i denti Ora che arriva facciamo lì su di là, la seconda è una via via che li trovano, facciamo lì via possiamo vedere anche il fatto della, a parte la differenza se riprendo anche quello e il fatto di avere la targhetta, se la tira allora là c'è questo water e anche quello dentro, si che c'è altrimenti la sicurezza perfetto grazie